Malika è stata criticata per come ha speso i soldi della raccolta fondi Si è comprata il bolido di una macchina? Sta scherzando Ha comprato una Mercedes Che la macchina è sua, Videl Gli aerei di merda Ciao scappati di casa Io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video dedicato a una polemica Shock Malika è stata criticata per come ha speso i soldi della raccolta fondi Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative a video che pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale Così di rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash ed ovviamente anche su queste polemiche shock Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio Ah e ricorda, sì proprio, tu che stai guardando questo video Cos'è che ti devi mettere se stai in mezzo alla gente? Ti devi mettere la mascherina, punto! Nuovo video ragazzi, nuova polemica, super super shock Dopo il video di Ibn Jane, insomma la vacanza a Palermo che ha fatto largamente discutere Se vi siete persi quel video ve lo lascio qui nella i di informazioni Oggi andremo a parlare di un altro argomento, di un'altra polemica, di un'altra bufera mediatica Che si è letteralmente buttata, cioè è arrivata dritta a lei, a Malika Una ragazza che in questi ultimi mesi abbiamo conosciuto, ahimè purtroppo per una vicenda di omofobia Ma insomma oggi capiremo tutto quanto perché da povera ragazza Malika è arrivata ad essere il centro, il mirino Delle critiche, delle polemiche di tutto il web ma diciamo di tutte quelle persone che hanno partecipato alla raccolta fondi Una raccolta fondi che vi ricordo era stata fatta per dare un futuro migliore a questa ragazza Ma adesso bando alle ciance, andiamo con ordine e capiamo tutto quello che è successo Allora, Malika è una ragazza di 22 anni che lo scorso febbraio, marzo, aprile è stata coinvolta in una brutta, bruttissima vicenda di omofobia familiare Questo perché? Perché lei ha deciso di scrivere una lettera ai propri genitori, alla propria famiglia Nella quale diceva, ragazzi, a me piace una donna, sono lesbica, sono omosessuale E di fronte a questa lettera, beh, i genitori e il fratello non ci hanno pensato due volte L'hanno subito sbattuta fuori casa E così questa ragazza di soli 22 anni si è ritrovata per strada Fortunatamente, avendo una fidanzata, aveva un minimo di appoggio Ma ovviamente era una situazione molto, molto complicata e molto difficile da gestire Anche e soprattutto a livello economico Per questo motivo un suo conoscente decide di creare una raccolta fondi su GoFundMe Il sito che, ragazzi, lo conosciamo tutti quanti Perché vi faccio un esempio La raccolta fondi dei Ferragnez per la terapia intensiva Ecco, quella è stata fatta su GoFundMe Che è un sito che, insomma, permette di raccogliere dei fondi Detto questo, questa bellissima iniziativa viene accolta da tantissime persone E ad un certo punto talmente viene, diciamo, presa a cuore questa ragazza Anche dai media italiani che Malika si ritrova ad essere una sorta di superstar Una persona famosa, un personaggio famoso Che viene accolto anche in tantissime e tantissime trasmissioni televisive È stata per prima cosa alle Iene che hanno raccontato per filo e per segno ciò che è successo E poi è finita anche, pensate un po', al Maurizio Costanzo Show Maurizio Costanzo l'ha invitata con molto piacere Perché appunto voleva raccontare la sua storia per abbattere una volta per tutte Tutti quei pregiudizi e preconcetti che ci sono sul mondo LGBTQ+. Detto questo, Malika viene abbracciata praticamente da tutti quanti noi E soprattutto viene abbracciata da quelle che sono le donazioni delle persone che hanno partecipato alla raccolta fondi In poco tempo infatti la raccolta fondi raggiunge ben 140.000 euro Una cifra molto importante che può permettere a Malika di iniziare una nuova vita lontano dalla sua famiglia E fino a qui voi direte, vabbè ma che c'è di strano Ed in effetti, cioè fino a qua ragazzi, tutto bello, tutto molto interessante, tutto che ci sta piacendo Perché fortunatamente ci sono persone che donano e fortunatamente questa ragazza ha avuto un minimo di appoggio Ma, come sempre, c'è un ma grande quanto una casa E perché dico così? Perché in queste ultime settimane Malika ha fatto largamente discutere Ha fatto discutere per come ha gestito i soldi che le sono stati donati E diciamo che è stata ampiamente criticata per aver fatto vedere determinate cose Quindi oggetti ma anche animali, perché parleremo anche di animali in questo video Sui suoi social parleremo di una importante e diciamo anche costosa auto che si è comprata E poi anche, vi dicevo, parleremo di un cane di lusso che si è comprata sempre con i soldi delle donazioni Qualche settimana fa inizia a circolare qua sul web una foto shock Una foto in cui vediamo Malika al volante di una Mercedes classe A Ragazzi, una macchina che se comprata nuova costa 27.000 euro Quindi diciamo che non è per niente economica, se così possiamo dire Anche perché se pensiamo che invece ci compriamo, che ne so, una Panda con tutto incluso dentro È 10-12.000 euro Capite che comunque la Mercedes classe A super di base 27.000 euro, una cifra molto importante E questa foto è stata ripresa e soprattutto è stata pubblicata Da una persona che ci ha raccontato qualcosa E questa persona è Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli che appunto ha scritto questo Ho mentito? Sì Con i soldi della raccolta fondi mi sono comprata anche una Mercedes A 22 anni volevo togliermi uno sfizio Non donerò ad enti, ma fondo un'associazione con la Boldrini Solo che la cosa va per le lunghe Lei non è stata bene Dono ad alcuni enti Ho detto così perché delle persone volevano costringermi a donare al gruppo ospedaliero San Donato Mi hanno chiusa in uno sgabuzzino per farmi dire delle cose Un'intervista molto confusa a Malika A cui auguro comunque di imboccare la strada della serenità e della trasparenza Per quello che mi riguarda L'ulteriore conferma del fatto che queste raccolte fondi così frettolose e superficiali Fanno male a tutti Talvolta anche ai destinatari PS La Boldrini ha smentito di aver mai preso accordi con lei Quindi insomma ragazzi Da questo post capiamo che forse Malika non sta dicendo proprio la verità La vera verità E non è finita qui però ragazzi Non finisce qui perché un'altra persona che si espone sul caso Malika È proprio Gabriele Parpiglia Il giornalista, l'autore soprattutto del Maurizio Costanzo Show Che in questi mesi si è diciamo Ha protratto la sua mano verso Malika per aiutarla E di fronte a determinate cose Di fronte anche al fatto di un'ultima ospitata che aveva fatto Malika Nel suo programma Live Now Italia Beh, Gabriele Parpiglia non può più stare in silenzio E per questo motivo Prima di andare a leggere quello che ha scritto Voglio farvi vedere Un breve estratto Dell'intervista di Malika Che ha fatto Gabriele Parpiglia Un'intervista nella quale lei risponde Sinceramente o forse no Alla domanda Ma ti sei comprata la Mercedes? E questo è quello che ha detto Guardate E mi ha detto che guidavi una macchina Un bolide In centro a Milano E allora io ho detto Guarda, le risponderò in diretta Ti sei comprata il bolide Una macchina Sta scherzando? No, sono serio Prima di dire le cose Senza sapere Senza conoscere È bene che si informi Perché la macchina è sua I miei genitori Ce l'hanno data Per salire su a Milano Da questo video È tutto chiaro No La macchina non l'ha assolutamente Comprata lei Ma appartiene ai genitori Della sua fidanzata Che insomma Hanno prestato Questa macchina Per salire su a Milano La verità però Purtroppo Potrebbe essere un'altra E infatti andiamo a leggere Quello che ha scritto Gabriele Parpiglia Lo devo fare per un motivo Ben preciso Una persona mi ha scritto Gabri A causa di queste situazioni Poi si possono compromettere Storie più serie Che hanno bisogno di aiuto E non di un bolide sotto il culo Lo devo fare per rispetto Di chi non è stato rispettato Da queste due ragazzine Che in primis Hanno preso per il culo me Guardandomi in faccia Sotto le telecamere In diretta Dinanzi agli spettatori Andiamo con ordine Poco prima di andare in onda Mi scrive Selvaggia Lucarelli E mi dice Gabri Ma ti risulta che Malika si sia comprata Una macchina Da XX euro Io rispondo Che non ne sapevo nulla Poi faccio una telefonata E mi viene detto Che le due ragazze Rispondono Che l'auto Era dei genitori Della fidanzata Medici benestanti E che anche La Boldrini Era rimasta Umanamente colpita Dalla storia Rispondo a Selvaggia Lucarelli Che insiste sicura Io dovevo andare in onda E decido di chiedere in diretta Se fosse così o meno Ripeto In onda Sono serio E le due seriamente Mi prendono per il culo La mattina successiva Faccio partire Una serie di telefonate Per capire A chi appartenesse La macchina Lo faccio da giornalista Usando le mie fonti E con possibilità Di non essere smentito Passano dei giorni E la visura ufficiale Pra Conferma che la macchina E di Malika Presa a Firenze In un concessionario Mi viene il vomito Nel mentere un'altra storia Con un altro protagonista Prende piede in negativo Vomito due volte E lo faccio intuire Nelle mie storie Quando risento Selvaggia Lucarelli Il puzzle delle bugie Per le due storie Si incastra perfettamente Ecco Voi due ragazzine Che avete mentito in tv E su altre mille cose Che non voglio tirar fuori Voi due Che giocate Nel mondo dei grandi Con grandi bugie E con una paraculagine Da 17.000 euro Weekend al mare Acquisti costosi Sporcate un mondo Dal quale dovete stare lontane Tu Malika Che per giorni Eri infastidita Non capendo Che già sapevo tutto Ora fai il conto Con le tue bugie Evita di smentire Sotto il tappeto Non c'è solo la macchina Mi auguro Che i soldi donati Rimasti Possano finire In un progetto Dedicato Al bene Buona vita Lontano dalla mia Parole molto forti Quelle di Gabriele Parpiglia Che sinceramente Io condivido Nel senso che Capisco Il fatto che lui Si senta preso in giro E non una Due volte Ma migliaia di volte Perché In prima persona Ha dato il permesso E ha dato Spazio Soprattutto Al Maurizio Costanzo Show E poi anche in questo Altro Programma A Malika Di esprimersi Di raccontare la sua storia Di essere In vista E soprattutto Di essere aiutata Nel momento in cui Ti rendi conto però Che hai aiutato una persona Che se ne vuole Solo approfittare Eh Qua insomma Sfido chiunque A non A non arrabbiarsi Quanto meno E questo è quello Che appunto È successo Non è finita qui però Perché La storia di Malika Continua E Siamo solo all'inizio E dopo questi primi Sbugiardamenti Avvenuti qua Sui social Malika decide Finalmente Di rispondere Di controbattere Pubblicando alcuni Messaggi Su Instagram Nei quali addirittura Fa vedere E adesso lo vedremo Degli screenshot Delle donazioni Che lei ha fatto Con i soldi ricevuti E inizia dicendo questo Per quanto riguarda I papà per scelta Mi scrissero su Instagram Quando tutto iniziò Siccome ero inondata Non riuscii a leggere Il loro messaggio Decisero quindi Di scrivere a mia cugina Che mi riportò il messaggio E mi disse Di comunicare con loro E voglio anche dire Che né loro Né mia cugina Si sono intascati Un euro Anzi Hanno fatto tutto Per agevolare me Con Carlo poi Che mi ha aiutata Ad individuare anche L'associazione giusta A cui dare quei soldi Per quanto riguarda L'associazione Ho sempre detto E sostenuto Che era un mio desiderio Aprirne una A mio nome Per supportare Ragazzi e ragazze Che vivono ciò Che ho vissuto io La fondonia Di Laura Boldrini Da me Non è mai uscita E appunto come vi dicevo Oltre a questi messaggi Malika ha fatto vedere Anche degli screenshot Di donazioni fatte su GoFundMe Di bonifici fatti A delle associazioni Insomma io Cercherò di oscurare le cose Però insomma Lei ha pubblicato Questi screenshot Non è finita qui Perché ovviamente Di fronte a questi messaggi Selvaggia Lucarelli Risponde a tono E riporta proprio Quelle che sono le parole Di Malika Soprattutto per quanto riguarda Il caso Boldrini Che insomma Ha detto di non aver mai parlato Con Malika Bene Selvaggia Lucarelli Scrive questo Sono molto dispiaciuta Per il cumulo di bugie Che sta raccontando Questa ragazza Oltre che per la frettolosa Pubblicazione Nelle storie Di bonifici Di poche centinaia di euro Fatti oggi Ad associazioni Per la cronaca La telefonata con lei È ovviamente registrata E della Boldrini Si parla più riprese E visto il tanto clamore Che sta suscitando Questa cosa Questa bufera Sul suo conto Malika decide Di pubblicare un post Un post In cui riporta Gli screenshot Di quelli che sono I suoi pensieri Scritti Nelle note del telefono E infatti Inizia proprio così Ciao a tutti Scrivo questo post Perché sento di dovervi Queste parole E delle spiegazioni Gli articoli Che sono usciti Tra ieri e oggi Mi hanno fatto star male Perché ricchi di cose non vere E raccontate male Forse Con lo scopo di farmi sembrare La persona che non sono Per quanto io voglia credere Nella buona fede Di chissà ciò che ho passato Sono passati meno di due mesi Da ciò che mi è successo E tutti i vostri aiuti Sono stati la mia salvezza Mi avete dato la forza E i mezzi Per riprendere in mano La mia vita Questo arco di tempo È poco Per una ragazza di 22 anni Per elaborare Tutto ciò che ho passato E che nel cuore Porterà sempre Ma nonostante il breve tempo Ho da subito deciso Di aiutare gli altri Con delle donazioni Perché so che voglio fare tanto Per tutti voi E non sarà mai abbastanza Per dirvi grazie Come vorrei Le donazioni sono vostre E voglio che sappiate Dove finiscono E quanto hanno significato Per la persona A cui le avete dedicate Non ho comprato Un'auto di lusso A vostre spese Sono arrivato a Milano Per ricostruire la mia vita Al sicuro E lontano da chi Mi ha messo paura E non avendo l'auto Di cui necessitavo Per tutti gli impegni sociali E ormai lavorativi Che hanno riempito Le mie giornate E che soprattutto Mi hanno portato A viaggiare in auto Per ore Ne ho presa una Dando in permuta La mia Che ormai camminava a fatica Prendendone una Di seconda mano Sì L'auto è una Mercedes Un'auto che mi permette Di non restare a piedi In questi viaggi lunghi E che mi accompagna Il più a lungo possibile Considerando che non so Cosa ci sarà nel mio domani Sto cercando di trovare La mia stabilità In un momento In cui la terra Mi trema sotto i piedi Oggi Grazie a voi sto bene Perché sto cercando lavoro Per partire dalla base Che mi avete regalato E quest'auto Fa parte della ricostruzione Della mia vita Io sono una persona Che per anni Ha lavorato in una pelletteria Una persona Che non si è mai tirata indietro Da responsabilità E doveri Non l'ho fatto prima E non lo farò adesso E non solo per me stessa Ma per tutti voi Che siete stati la mia famiglia Quando non ne avevo una Da oggi voglio mostrarvi La persona che sono Senza filtri mediatici E quindi vi invito A chiedermi qualsiasi cosa So che ve lo devo E non perdo questo pensiero Dalla mia testa Nemmeno un secondo E so che ciò che avete fatto Per me È per vedermi al sicuro E felice E questa felicità Che piano piano sto ritrovando La devo a voi Non permetterò più a nessuno Di manipolare O nascondere le mie verità Perché come famiglia Vi meritate Tutta la trasparenza del mondo Grazie per tutto Da Malika La ragazza che per un secondo Vi ha toccato il cuore Con la sua storia La ragazza che farà di tutto Per essere la voce Di tutti voi Vi voglio bene E anche di fronte a queste stories Selvaggia Lucarelli Risponde a tono E ricondivide Nelle sue stories Il post di Malika E scrive questo Il tema non è estro l'auto E Malika Lo sa molto bene Non credo che continuare a fingere Di non aver speso soldi Per beni non necessari Sia onesto È meno onesto Che spenderli per quel che vuole E poi continua Non solo Mercedes Con i fondi raccolti Malika ha comprato anche un cane Da 2500 euro È un bene di prima necessità Mi ha risposto Per la cronaca A chi chiede se quella di Malika Non sia una truffa Rispondo di no È a mio avviso Tutto molto censurabile Sul piano morale E dell'opportunità Ma il problema Non è la furbizia di Malika Il problema È la leggerezza Con cui si dona A persone E cause Di cui si sa Perché un influencer Con milioni di follower Scrive tre post lacrimosi O perché il primo sito Che passa Fa un'intervista Da milioni di click Con il titolo ad effetto Senza approfondire Nulla Nel corso del tempo O perché si diventa Simboli O bandiere In 5 minuti Le raccolte fondi Su GoFundMe E affini Sono scivolose Chi le sponsorizza Ha una grande responsabilità Chi dona Ancora di più E questo è solo l'inizio Presto parlerò di altre raccolte fondi Il peggio Deve ancora venire Ricordatevi bene Questo insegnamento Quando la prossima volta L'influencer di riferimento Che non si informa su nulla Ma cavalca All'onda emotiva Del momento Vi convincerà del fatto Che ci sia un IBAN Che aspetta il vostro aiuto Anche 5 euro Si devolvono A causa Di cui si sa tutto Aggiungo che Se una piattaforma Che raccoglie fondi Guadagna una percentuale Sulle donazioni Sarà sempre Su interesse Verificare il meno possibile La serietà Delle raccolte Detto questo Comunque Smorziamo un attimo Questa stupenda Fantasticissima Aria di bufera Mediatica Parlando di una cosa Divertente Che è successa E che ha sempre pubblicato Selvaggia Lucarelli Ad un certo punto Malika Viene fraintesa Con Malika Yan Quindi insomma La cantante Che tutti quanti noi Conosciamo L'estate Muoi un po Ok Proprio lei E La povera Malika Yan Viene praticamente Bombardata Di messaggi Di persone Che le dicono Eh Vergognati A chiedere soldi A comprarti le macchine Bla 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 Ed ovviamente La povera Malika Yan Deve scrivere su Twitter Così Cari fulmini di guerra Che mi intasate La mail E i social Con insulti O espressioni Di solidarietà Ho una notizia per voi La Malika Che cercate Non sono io Incredibile Che nel 2021 Ci siano più donne Con lo stesso nome Quindi insomma ragazzi Tutte quelle persone Che si sono scagliate Contro la povera Malika Yan Ripigliatevi un attimo Cioè almeno Se dovete scrivere Un post Un tweet Un qualcosa Informatevi bene Su chi sia la persona Perché è un'altra ragazza Si chiama Malika E non Malika Ok Che è scritto uguale Però l'accento è diverso Ma è completamente Un'altra persona Detto questo Comunque Adesso però Fatemi sapere voi Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Di tutta questa storia Di Malika E di quello che è successo Aiuto Il video Può offrire questo portanto Che vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel Pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E qui sotto Trovate tutti i miei social Dove potete seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi Ci abbiamo provato Ciao